Ritrovato cadavere un uomo di 40 anni mentre galleggiava a pochi metri dalla banchina all'interno dell'area portuale di Porto Empedocle. Si tratta di Aristide Taino, un pescatore che viveva a Porto Empedocle con piccoli precedenti penali legati al mondo della droga. Non aveva né moglie né figli. A piangere il cadavere, un altro uomo. Non è chiaro però come il quarantenne sia finito in acqua. A dare l'allarme sono stati intorno alle 7 del mattino dei pescatori. La salma dell'uomo è stata recuperata e verrà sottoposta a ispezione cadaverica. L'esame servirà ad accertare le cause del decesso. Pare che sul cadavere non siano stati riscontrati segni di violenza, servirà però avere la conferma dell'ispezione cadaverica. Al momento non viene escluso neanche il malore che potrebbe dunque aver fatto perdere l'equilibrio a quarantenne facendolo finire in acqua. Sul posto, oltre a un'autoambulanza del 118, sono al lavoro i polizioti del commissarato frontiera di Porto Empedocle, capitanati da Cesare Castelli, carabinieri della stazione di Porto Empedocle, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i militari della guardia costiera. Grazie a tutti.